Fedeltà all'annuncio evangelico, ma anche capacità di attualizzare il messaggio di Gesù per rispondere in modo concreto e non decorativo ai bisogni e alle domande dell'uomo di oggi. Così il Papa, incontrando i Vescovi alla rota romana, ha ricordato il fine ultimo di ogni azione pastorale e ha rinnovato loro l'impegno a tener fede alla grande responsabilità a cui sono stati chiamati. Pascere il gregge non come padroni delle persone, ma come modali da seguire, anche nei confronti di chi vive il dramma del fallimento coniugale. In tale prospettiva, ha aggiunto Bergoglio, occorre eliminare con decisione ogni impedimento di carattere mondano che rende difficile ad un largo numero di fedeli l'accesso ai tribunali ecclesiastici. Questioni di tipo economico, organizzativo, non possono costituire un ostacolo per la verifica canonica circa la validità di un matrimonio. Nell'ottica di un sano rapporto tra giustizia e carità, ha affermato ancora Francesco, anche i tribunali ecclesiastici non possono prescindere da quella che è la legge suprema della Chiesa che supera anche il diritto, ovvero la salvezza delle anime. Urgente è allora ascoltare il grido di chi ha bisogno di fare verità sul proprio matrimonio e agire perché nessuno si senta estraneo al corpo di Cristo. Siamo chiamati a non escluderli della nostra ansia pastorale, ma a dedicarci a loro e alla loro situazione irregolare e sofferta con ogni sollecitudine e carità.